Abbiamo pensato che fosse giusto ricordare Nino Manfredi 100 anni dalla sua nascita quest'anno e quindi stasera ha la presentazione di uno dei suoi film più celebrati che è per grazia ricevuta da lui girato e ne parleremo con te e con altri amici perché appunto questo è il modo in cui ci piace iniziare questo festival poi panoramica come l'anno scorso un festival che cerca di presentare opere significative più o meno conosciute realizzate nel corso degli ultimi mesi otto in concorso fra opere prime e opere invece di personaggi con più esperienza dietro le spalle in più una sezione dedicata ai cortometraggi e una sezione dedicata ai documentari ambientali perché l'ambiente è il tema portante tanto quanto il cinema italiano di questo festival il desiderio, la voglia di raccontare dei pezzi di realtà e di raccontarli con passione, con interesse, con coraggio quindi mettendoci veramente del proprio da parte di tutti quelli che lo realizzano probabilmente la stagione rappresentata da Manfredi come da altri grandi della sua epoca è una stagione irripetibile del cinema italiano o comunque una stagione forse irripetuta fino adesso per la qualità degli attori, per la qualità dei registri, per la qualità degli sceneggiatori la scelta quindi anche di ricordare Manfredi è una scelta di omaggiare un cinema di un tempo e contemporaneamente il modo per dire che noi siamo piccoli, nuovi, noi di questo festival ma abbiamo e ci piace riconoscerci in radici lontane che sono quelle di un cinema che ha dato moltissimo a tutti noi e a tutto il mondo penso di poter dire PRAGEO 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 Grazie a tutti.